Nel pomeriggio frenetico e turbolento di Gerusalemme, durante la celebrazione dei tabernacoli, una scena intrigante si svolse davanti agli occhi degli spettatori attenti. Tra i mormorii della folla e sguardi ansiosi, dei capi religiosi, una donna fu trascinata fino al centro della piazza e la sua vergogna fu esposta davanti a tutti. Era accusata di adulterio, una trasgressione che, secondo la legge di Mosè, poteva costarle la vita. I farisei e scribi, con le loro vesti immacolate e i volti severi, la presentarono davanti a Gesù, cercando una parola di condanna che giustificasse la loro propria interpretazione rigorosa della legge. Tuttavia, invece di una risposta immediata, Gesù sorprese tutti con un gesto inaspettato. Si chinò e iniziò a scrivere per terra, ignorando temporaneamente la questione in gioco. Questa azione intrigante non solo attirò l'attenzione di tutti, ma gettò anche le basi per uno dei momenti più memorabili e significativi della vita e degli insegnamenti di Gesù. La storia della donna adultera e l'azione di Gesù di scrivere per terra sarebbero diventati un simbolo duraturo di perdono, misericordia e comprensione divina di fronte alla giustizia umana implacabile. E in questo video vedremo ciò che Gesù ha scritto nella sabbia e quale insegnamento possiamo imparare da questo passaggio. Prima di iniziare la storia della donna adultera e dell'azione potente di Gesù di scrivere per terra, è cruciale comprendere il contesto storico e religioso in cui questo evento si svolge. Siamo nella Gerusalemme del primo secolo, una città vibrante e culturalmente ricca, ma anche un crogiolo di tensioni politiche e religiose. Il popolo ebreo vive sotto il dominio dell'impero romano, un'occupazione che alimenta sentimenti di resistenza e il desiderio di un liberatore messianico. In questo scenario la legge religiosa ebraica svolge un ruolo centrale nella vita quotidiana, dettando norme di condotta, rituali e pratiche sociali. I farisei e scribi, come i custodi sovrani della legge, occupano una posizione di rilievo nella società ebraica. Sono interpreti e applicatori della legge di Mosè, incaricati di mantenere la purezza e l'ortodossia religiosa. Tuttavia, la loro interpretazione della legge spesso diventa rigida e legalista, focalizzata più sull'osservanza esterna che sulla comprensione dello spirito della legge. È all'interno di questo contesto che troviamo la donna adultera portata davanti a Gesù come una pedina in un gioco di potere e autorità religiosa. La celebrazione dei tabernacoli, o Sukkot in ebraico, era una delle feste più importanti nel calendario religioso ebraico. Il tabernacolo era una struttura mobile, una sorta di santuario portatile utilizzato dagli israeliti durante il loro viaggio nel deserto, dopo la liberazione dall'Egitto. Descritto minuziosamente nel libro dell'Esodo, serviva come luogo centrale di adorazione e incontro con Dio. Il tabernacolo consisteva in due parti principali, il luogo santo e il santo dei santi. Nel luogo santo si trovavano l'altare dell'incenso, la tavola dei pani della proposizione e il candelabro d'oro puro. Nel santo dei santi, il luogo più sacro, si trovava l'arca dell'alleanza, che conteneva le tavole della legge date a Mosè sul monte Sinai. Il tabernacolo simboleggiava la presenza di Dio tra il suo popolo ed era il luogo dove gli israeliti offrivano sacrifici e cercavano perdono per i loro peccati. Durante questa festività, che durava sette giorni, gli ebrei costruivano capanne temporanee chiamate Sukkot in memoria della peregrinazione dei loro antenati nel deserto dopo la liberazione dall'Egitto. Queste capanne erano fatte con materiali naturali, come rami d'albero, e simboleggiavano la dipendenza del popolo da Dio durante il loro viaggio. Durante la festa, gli ebrei svolgevano anche cerimonie di adorazione e offrivano sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. Era un periodo di gioia e gratitudine, in cui le famiglie si riunivano per celebrare il raccolto e la fedeltà di Dio nel provvedere ai loro bisogni. La festa dei tabernacoli aveva anche un significato profetico, indicando la futura restaurazione di Israele e l'instaurazione del regno di Dio sulla terra. In mezzo a questa atmosfera festiva, i farisei e già gli iscrivi, i leader religiosi dell'epoca, tesero una trappola a Gesù. Sapendo che Gesù era conosciuto per la sua compassione e per i suoi insegnamenti, che sfidavano le interpretazioni tradizionali della legge, portarono una donna colta in adulterio davanti a lui, radunando una folla per testimoniare l'evento. Facendo così, speravano di mettere Gesù in una situazione difficile. Se avesse concordato con la legge di Mosè, che richiedeva la lapidazione dell'adultera, sarebbe potuto sembrare insensibile alla misericordia. Se si fosse opposto alla legge, avrebbe potuto essere accusato di disprezzare le tradizioni religiose. Era una tattica astuta per screditare Gesù davanti al popolo, o quantomeno minare la sua autorità morale e religiosa. La trappola dei farisei e degli iscrivi rivela non solo la loro astuzia politica, ma anche la loro mancanza di comprensione, dei veri insegnamenti di Gesù e del suo messaggio di amore e perdono. Nel contesto culturale e sociale della società dell'epoca in cui visse Gesù, le donne affrontavano una serie di sfide e restrizioni. Erano spesso viste come proprietà degli uomini, con poca autonomia sulle loro vite e decisioni. Nel caso specifico dell'adulterio, le conseguenze erano particolarmente severe per le donne. La fedeltà matrimoniale era considerata fondamentale per la stabilità familiare e sociale e l'infedeltà era vista come una grave violazione di quest'ordine stabilito. Le norme culturali e sociali dell'epoca stabilivano che le donne adultere fossero soggette a punizioni severe, spesso culminanti in castighi pubblici come la lapidazione fino alla morte. Inoltre, le donne adultere erano frequentemente stigmatizzate e emarginate dalla società, affrontando ostracismo e discriminazione anche dopo aver scontato qualsiasi punizione imposta. In questo contesto, la reazione degli accusatori della donna adultera riflette la mentalità dominante dell'epoca, dove la donna era frequentemente ritenuta responsabile in modo sproporzionato per le trasgressioni sessuali, mentre uomini, spesso, sfuggivano a qualsiasi conseguenza grave per i loro comportamenti inappropriati. Per scribi e i farisei, la situazione rappresentava un'opportunità non solo per mettere alla prova Gesù, ma anche per rafforzare la loro stessa autorità morale e religiosa davanti al popolo. Di fronte alla trappola preparata dai farisei e dagli scribi, Gesù risponde in modo insolito e profondo. Invece di impegnarsi immediatamente nel dibattito sul destino della donna adultera, sceglie un gesto apparentemente semplice, ma carico di significato. Si china e comincia a scrivere per terra. Questo gesto sconcertante non solo dimostra la sua autorità e padronanza delle scritture, ma serve anche come punto di svolta nella narrazione. Mentre la folla attendeva una risposta diretta da Gesù, egli opta per un'azione che devia l'attenzione dalla discussione immediata e invita alla riflessione. L'atto di scrivere per terra non solo sospende il confronto imminente, ma crea anche uno spazio per la contemplazione e l'autoesame. È come se Gesù, con il suo gesto, invitasse sia accusatori che la folla a guardare dentro se stessi prima di pronunciare giudizi affrettati. Questo atteggiamento singolare di Gesù sottolinea non solo la sua saggezza e perspicacia, ma anche la sua compassione e il desiderio di insegnare in modo trasformativo. Ciò che scrive per terra rimane un mistero, ma l'impatto emotivo e spirituale di questo gesto è innegabile, segnando un momento cruciale nella narrazione e nella vita della donna adultera. Alcuni teologi suggeriscono che Gesù potrebbe fare riferimenti simbolici alle scritture o alla stessa legge di Mosè, sottolineando la necessità di un'interpretazione più profonda e compassionevole. Altri ipotizzano che potrebbe scrivere i peccati individuali degli accusatori, confrontandoli con la loro stessa ipocrisia e mancanza di purezza. Indipendentemente da ciò che fu scritto, il gesto in sé trasmette un potente messaggio di introspezione e riflessione. Allo stesso tempo, l'atto di Gesù dimostra la sua autorità sulla legge e sulle scritture, la sua capacità di elevarsi al di sopra delle interpretazioni legalistiche dei farisei e degli scribi, mostra che egli non è semplicemente sottomesso alle regole, ma ne è il maestro. Egli non solo conosce la legge, ma la trascende. Di fronte alla provocazione di Gesù, l'aria si caricò di tensione, come se il tempo si fosse fermato in quel momento cruciale. I suoi occhi incontrarono quelli degli accusatori e, serenamente, Gesù chiese ad alta voce, «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Queste parole tagliarono il silenzio come una spada affilata, penetrando nelle coscienze dei farisei e degli scribi riuniti lì. Il peso dell'ipocrisia e della mancanza di compassione gravava su di loro, rendendo ogni pietra che portavano più pesante. Uno a uno, accusatori cominciarono a sentire il peso della propria colpa. La loro coscienza li feriva più di quanto qualsiasi pietra lanciata avrebbe potuto fare. Il silenzio che seguì fu assordante, poiché nessuno di loro osò rivendicare una purezza che sapevano essere un'illusione. Lentamente, come se si risvegliassero da un sogno, cominciarono a ritirarsi, i loro passi pesanti e cheggiavano sul pavimento. Mentre gli accusatori si allontanavano, lo sguardo di Gesù li seguiva, pieno di compassione e tristezza per la cecità spirituale che li aveva consumati. Lì, in quel scenario di giudizio e condanna, egli rivelò non solo la vera natura della legge, ma anche l'essenza del suo messaggio di amore e misericordia. La sua risposta sfidante mise a nudo l'ipocrisia dei leader religiosi e li confrontò con la realtà della loro propria umanità fragile e fallibile. In quel momento, Gesù non solo salvò la vita della donna adultera, ma offrì anche un'opportunità di redenzione a tutti i presenti, invitandoli a guardare dentro se stessi e a trovare la vera purezza che può venire solo da un cuore trasformato dalla grazia divina. Così, in mezzo alla quiete che avvolgeva l'ambiente, Gesù si avvicinò a lei con una serenità che sembrava emanare un'aura di pace e compassione. I suoi occhi trasmettevano una profonda empatia, una comprensione che superava le parole. Non aveva bisogno di molti gesti per esprimere ciò che aveva nel cuore. Con una voce dolce, ma ferma, Gesù si rivolse alla donna, i cui occhi riflettevano ancora il timore e la vergogna per il suo passato. Egli disse, neanch'io ti condanno, va e non peccare più. Ogni parola risuonava come una melodia di speranza, una promessa di rinnovamento e restaurazione. Era come se, in quel momento, le catene del passato fossero state spezzate e un nuovo cammino si aprisse davanti a lei. Questa dichiarazione di Gesù è stata un invito a una profonda trasformazione personale. Non solo ha assolto la donna dalla sua colpa, ma anche incoraggiata a intraprendere una nuova strada, a seguire un cammino di rettitudine e redenzione. I suoi occhi trasmettevano un amore incondizionato, un'accettazione che andava oltre qualsiasi errore o fallimento del passato. Era come se, in quel momento, la donna avesse sentito il peso del giudizio e della condanna essere sostituito da una liberazione e una speranza rinnovate. La storia della donna adultera si inserisce perfettamente nel contesto più ampio del ministero di Gesù e del suo messaggio di redenzione, amore e grazia. Fin dall'inizio del suo ministero, Gesù ha enfatizzato l'importanza dell'amore e della misericordia, sfidando le norme religiose e culturali del suo tempo. Spesso entrava in conflitto con le autorità religiose, non per abolire la legge, ma per rivelarne il vero scopo e significato. Questa narrazione ci invita anche a riflettere sulla natura della legge divina e la sua relazione con la giustizia e la misericordia. Mentre i farisei e scribi si aggrappavano rigidamente alla lettera della legge, cercando giustizia attraverso il lapidamento della donna adultera, Gesù li ha sfidati a guardare più in profondità, a comprendere che la vera giustizia va oltre l'osservanza dei comandamenti. Essa è permeata dalla misericordia, dal perdono e dalla compassione, qualità che riflettono l'essenza stessa del carattere di Dio. La risposta di Gesù alla donna adultera? Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Ci invita a contemplare il potere trasformatore del perdono e della misericordia. In un mondo in cui l'odio sembra questo messaggio è un vivido ricordo che il perdono non solo libera l'offensore, ma anche l'offeso. Esso rompe il ciclo di risentimento e vendetta, aprendo la strada alla guarigione e alla riconciliazione. Questo episodio della donna adultera si trova nella Bibbia nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti da 1 a 11. La comprensione profonda di questa narrazione biblica va oltre il semplice conoscere gli eventi che sono accaduti. Essa ci porta a riflettere sui principi fondamentali della fede e del comportamento morale. La storia della donna adultera e l'azione di Gesù di scrivere per terra ci invitano a esaminare le nostre stesse attitudini verso il giudizio, la misericordia e la compassione. Ci sfida a domandarci se stiamo applicando la legge in modo giusto o se ci lasciamo trascinare dalla rigidità e dall'ipocrisia. Inoltre, questa narrazione ci ricorda l'importanza di guardare oltre le apparenze e riconoscere l'umanità in ogni individuo. Ci invita a praticare il perdono e a cercare la riconciliazione, anziché semplicemente condannare ed escludere. Perciò, esplorando questa storia, non stiamo solo studiando un evento del passato remoto. Stiamo confrontandoci con questioni e dilemmi che continuano a risuonare nelle nostre vite. La comprensione profonda di questo racconto biblico può guidarci nella ricerca di una fede più autentica e di una vita più compassionevole. Ora scrivi nei commenti cosa pensi che Gesù abbia scritto per terra e se avete visto finora e non hanno ancora sottoscritto al nostro canale, iscriviti ora, attivare la campana notifiche in modo da aiutare il nostro canale crescere. Un abbraccio e fino al prossimo video!